Salve cari amici, oggi vi parlo di questa rivista che si intitola Limes, rivista italiana di geopolitica. Limes è una delle più accreditate riviste italiane di geopolitica, dopo quella dell'ISPI che è geopolitica, che la trovate anche su internet, diretta dall'ambasciatore Sergio Romano. Esistono tre importanti riviste di geopolitica in Italia, mentre negli Stati Uniti magari ne esistono altre, tipo Stratfor. In Italia c'è Limes, una delle più accreditate geopolitica, quella dell'ISPI, diretta dall'ambasciatore Sergio Romano, tra l'altro Sergio Romano scrive spesso anche su Limes, dà il suo contributo, e poi c'è East Journal, che è una via di mezzo tra una rivista di geopolitica e un giornale. Una cosa, per esempio, Limes butta fuori numeri monotematici, molto carichi di pagine, infatti una rivista costa ben 12 euro, edita del gruppo editoriale L'Espresso, il direttore di questo numero era Lucio Caracciolo, mentre il presidente del consiglio di amministrazione Carlo De Benedetti. Questo numero risale al 2008, si intitola Progetto Russia, un numero monotematico sulla Russia, in cui si parla di Medved, il delfino di Putin, succeduto a Putin e poi, come sapete, è ritornato Putin. Questo numero di questa rivista di Limes mi permette di parlare anche di altre cose, perché ci sono due articoli che vorrei collegare alla situazione politica o geopolitica odierna. Innanzitutto, prima di la situazione interna agli Stati Uniti, con questa crescita di Trump, che cosa rappresenta? Rappresenta, come dicono degli esperti, il passaggio del Partito Repubblicano dalle identity cultural politics, cioè dalla politica identitaria e culturale, quella, per esempio, della lotta l'apporto della destra evangelica, del cristianismo, dell'identità cristiana, che è molto in voga, era stata molto in voga già ai tempi di George Walker Bush, molto in voga tra i candidati repubblicani che sono stati immarginati da Trump, perché Trump sta vincendo su di loro tipo Ted Cruz, Paul Ryan, eccetera. Quindi questa politica identitaria e culturale che è stata negli ultimi anni, dopo la caduta di George Walker Bush, la politica preeminente, il dibattito preeminente all'interno del Partito Repubblicano sta cedendo il posto anche nel Partito Repubblicano ai temi economici. Sì, perché bisogna dire una cosa, negli ultimi anni il Partito Repubblicano si era concentrato troppo sull'identità culturale, lasciando perdere i temi economici, dove era in sintonia anche col Partito Democratico, con il globalismo, eccetera, l'economia globale, eccetera. Joe Bush, per esempio, candidato sepolto da Trump, tra virgolette, nella corsa alla domination del Partito Repubblicano, per esempio aveva già delle differenze rispetto a suo fratello di George Walker, che diceva per esempio di un'alleanza con la Cina, eccetera, e per esempio era più possibilista sul tema dell'immigrazione. Invece Trump, e nessuno lo dice, sta ricalcando un po' la politica iniziale dell'amministrazione di George Walker Bush, cioè con forti richiami al nativismo, all'isolazionismo, ai temi economici come il dumping sociale cinese, quindi la lotta alla, diciamo così, alla concorrenza cinese sleale, eccetera. Questi temi economici segnano un passaggio evidente e netto, storico, del Partito Repubblicano che si sta concentrando anche su temi cari, che erano cari, non so se sono cari ancora adesso, al Partito Democratico. Questo mi permette di parlare anche dell'identity cultural politics della Russia. Innanzitutto, negli ultimi dieci anni, con Putin al potere, molti stanno parlando di una Russia che sta spostando l'argo della bilancia dai temi delle riforme liberali, quelle avvenute con la perestroica e con Gorbaccio ed Elzin, quelle degli anni 90, ha un forte patriotismo anche con una forte identità religiosa. Questo è vero solo in parte. Il patriotismo naturalmente è un leitmotiv della politica estera russa. Quella della forte identità culturale e religiosa russa lascia un po' a riflettere, perché non è proprio così. Infatti, ce ne parla soprattutto questo articolo, comparso su questa rivista Limes del 2008, Progetto Russia, a pagina 121, di Victor Peredecer, che parla dei russi una specie in via di estinzione e parla dell'invecchiamento demografico della popolazione russa. Dovete sapere che i dati di questo articolo sono un articolo. Non combattiano, per esempio, con articoli che ho letto su altre riviste, per esempio, di Giulietto Chiesa, che ha vissuto in Russia. Però ci dicono alcune cose fondamentali, combattiano. Non c'è stato un passaggio così netto che ha portato la Russia, da una concezione comunista e progressista, una concezione marcatamente conservatrice. C'è stata una rinascita religiosa dell'ortodossia, eccetera. Però questa non è così marcata come si vorrebbe far credere. La Russia, anche grazie proprio a questo problema dell'invecchiamento demografico, ha la presenza di una popolazione, come spiega questo articolo, dove ci sono poche famiglie numerose. La maggioranza delle famiglie hanno solo uno o due figli. C'è una forte mortalità maschile e una minore mortalità femminile. E c'è un altro numero di donne che non fanno figli. Quindi, all'interno di questa della nazione russa, possiamo trovare dei, tra virgolette, valori che vengono propagandati dai mezzi di comunicazione occidentale, come il fatto di fare figli solo se sono desiderati, di che la donna sia libera, la donna lavori, eccetera. E quindi c'è questo interesse, soprattutto, che dopo si manifesta proprio come interesse anche al tempo libero. Quindi sarebbe sbagliato di dipingere la Russia come un paese estremamente conservatore. È un paese dove sta iniziando un processo in cui elementi conservatrici e identitari si stanno mischiando con elementi rimasti, pregressi del vecchio comunismo progressista. Quindi una forte presenza di donne, naturalmente. e quindi questa è una realtà. Un altro articolo, a pagina 131, scritto da Zanna Zayokovska, Zayokovskaia, ve lo faccio spelling, Z-A-J-O-N-C-K-O-V-S-K-A-G-A, a pagina 131, si intitola ma ci salveranno gli immigrati. Anche questo articolo sfalta una manipolazione della comunicazione, una comunicazione falsa, una notizia falsa, che hanno dato i media, che danno una visione falsa, che danno soprattutto i grandi media occidentali e i politici, i diplomatici occidentali della Russia. C'era questo articolo che ho ritrovato su cnbc.com, che si intitola Putin weaponizing migrant crisis to Europe. In pratica il comandante della Nato, il coordinatore della Nato, Stoltenberger, ha detto un po' di tempo fa che la crisi dei migranti in Europa, tutti questi migranti che arrivano, sono mossi da Putin e Assad, il dittatore siriano, per invadere l'Europa con un chiaro progetto geopolitico di Putin. Questa è un'informazione molto di parte, anzi non è neanche informazione perché è una grossa falsità. In questo articolo di Limes, infatti, si spiegano le politiche migratorie della Russia. Con Putin si sono aperte molto le porte all'immigrazione in Russia. C'è un'immigrazione più libera e si sono fatte delle politiche che hanno favorito l'assunzione e la regolarizzazione dei migranti e il fatto che devono avere una casa, eccetera. Quindi la regolarizzazione. Quindi, su questo tema della migrazione, non è che Putin dica e dica facciamo che i migranti vada in Europa perché noi non vogliamo prendercene nei nostri confini. Se questo è l'intenzionalità dell'articolo della dichiarazione di Stoltenberg. Ma, conclude questo articolo, la Russia ha dimostrato di essere consapevole del valore dell'immigrazione e di essere pronta a garantire i diritti dei nuovi arrivati. Tale posizione, senza dubbio, far vorrei la diminuzione della xenofobia, il superamento del deficit di forza lavoro e la crescita dell'economia nazionale. Qui siamo a pagina 136. Quindi, per risolvere il problema del caldo demografico, la Russia ha aperto anche a un'immigrazione controllata e regolamentata. Cosa che... manca una strategia di questo tipo di controllo, regolamentazione e distribuzione dell'immigrazione in tutta Europa a livello europeo. Quindi, io non capisco perché questo dirigente della Nato, Stoltenberg, dica tali falsità sulla Russia. Ecco, su questi due argomenti, sulla Identity Cultural Politics, volevo soffermarmi oggi in questo video. Quindi, vi ricordo, questa numero di line, se potete trovarla anche su Ebay. L'IMES Progetto Russia, gruppo editoriale L'Espresso. Grazie e dai da un'altra cosa.